ciao a tutti ragazzi e qui c'è un nuovo video di minecraft oggi siamo in compagnia di un mio amico lele bomber allora oggi siamo in un mini game si chiama top castle wars che cos'è castle wars prende ci sono due castelli quello dei blu e quello dei rossi noi non sappiamo in quale andiamo a finire perché la scelta è random ogni volta che in cui andiamo un castello dobbiamo prendere la bandiera nemica e se la prendiamo e la portiamo il nostro castello vinciamo la partita e ci danno uno smeraldo alla scuola vincente in questo caso come state vedendo io 35 smeraldi e ci ho messo un sacco di tempo ma era per il che tipo ci ho messo una settimana 2 io sto pensando una cosa se raggiungiamo i cinque like io spenderò i miei smeraldi per comprare la mela di nocce e le due insieme avete capito avete capito adesso iniziamo siamo pronti 3 2 1 entriamo io sono la squadra rossa tu ok iniziamo la partita seguimi 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 io sono la squadra rossa tu no io direi che fare la prima vita proprio andare così a caso quindi si ammuccio molto spesso funziona tipo così un sacco di partite alla vista seguendo ok perfetto un po qua c'è il muro distrutto proprio ci stiamo perdendo vabbè a parte questa lezione di italiano io direi che siamo vicini e cominciano con le frecce ai io c'è un cuore c'è un cuore c'è un tutto corazzato che non mi trovo da ammazzare aspetta 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 sono morto questa è la prima morte sì sì ho ammazzato un tutto corazzato di diamante non ci si è visto nella chat vabbè tu sei però mi sono arrivati 5 cuori mamma allora io invece sono andato a prendermi l'arco potenziato che poi io non ho capito perché questo gioco a prendere gli archi potenziati tipo devi fare parkour quindi non mi sono andato con l'arco potenziato pure sembro la mia dai uccideli così perdono tutte le armature e tutte le cose allora dobbiamo andare di qua dai chi è rimasto poca vita e Lele Bomber fa la prima e la seconda e chi? l'ha ammazzato? no ti hanno ammazzato dai questo te lo dobbiamo riconoscere allora se questa serie vi piace lasciate un like iscrivetevi a proposito di like non scordate che se arriviamo a 5 like spenderò i miei smeraldi iscrivetevi al canale se non siete ci spenderemo insieme a 6 like a 6 like quindi uno in più quindi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi episodi un like anche qualche commento che non guasta mai cosa? non c'è ma è nato non l'avevo visto ti ero spostato e c'è nessun altro vabbè io devi fare di unirci perchè da soli siamo un po' navi invece insieme c'è 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 davvero capire ti metto anche solo di me perchè sanno che in uno lo facciamo a parlare aspetta io scrivo un messaggio che c'è un intruso blu oh che c'è un intruso blu oh effetto è proprio dall'altacco che c'ho l'arcofiamma che c'ho l'arcofiamma che c'ho l'arcofiamma potente ahi c'è uno col cosolo con l'armatura di diamante guarda commenta no mi ha ucciso e in questo oggi sono sfortunato tutte le volte cosa? ho ucciso ho ucciso bravo giulio ho ucciso con la spada di ferro patrick 2005 avevo due no no ho ucciso c'è uno colore guarda che sei qua vabbè 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 dove sei? hai ci sono quelli con le con gli archi ho ucciso ho ucciso e mi sono suicidato ho gioco un po' dai vabbè 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 hai una leva sono morto invece tu dove sei la letter bomber io sono arrivato in busto di ne penso che ho fatto sto andando qualche al laghetto ho capito c'è un blu che provo ad entrare dove è? c'è un blu che provo ad entrare la parola vabbè vieni seguimi, andiamo avanti dobbiamo andare a prendere la bandiera mi ha fatto un po' ancora il mondo qua carica ci sono gli alberi smettati andiamo avanti bravo io adesso faccio spadere qua proprio spacco il legno col piccone non ho mai visto no, no, no io mi suicidio 3,2,1 guarda che io non mi sono suicidato per sbagli io anche per me vabbè comunque ti ho visto ok, vabbè tu hai tutta la vita o dove sei? o dove sei? io ho la mia storia del gender proprio così a caso che la stramaggioranza alla volta è mico ma ci sto mezz'ora quindi andiamo avanti e prendiamo la bandiera io non capisco perché mi marcosì lento microsoft 7 fps che proprio è niente vabbè andiamo avanti e infatti un po' c'è un bluetooth carazzato che scrivo nella chat intruso in ciao ciao quando vanno no no mi ha preso no rinascito no mi ha ammazzato ammazzato per a me siamo in due ho ammazzato sto facendo che si è stancato allora le le bombe mi vuoi seguire si è trova che il chido sto facendo che si è stancato nel peco vabbè vieni seguimi dove sta andando se non ando a prendere l'altro occhio lo prendo pure io così sciottiamo la gente ecce ma c'è un blu che sta andando a prenderci la bandiera no cosa? che è successo? oh cazzo che è successo? mezzo cuore dove sei? aspetta oh io ho già preso l'alco quindi io non capisco ragazzi non capisco il bug che io non c'ho la mia skin c'ho la skin di un altro non so di che e invece gli altri c'hanno la mia skin cioè proprio non ho capito ecco what a fuck ho solo un cuore e mezzo allora nel fatto un po' qua spuntano messaggi in chat tipo di youtuber che hanno più iscritti di me e sono pure morto ti pareva eh? hanno più iscritti di mezzo ah questo qua 13 iscritti più di noi invece noi con questo video dobbiamo arrivare a 10 iscritti magari un cuore un cuore un cuore in quel tempo sempre faccio le stesse cose adesso ho scelto di fare aspetta che prendo un gruppo la spada no 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 ma ha visto ma ha visto ma ha visto aiaiaiai cioè tutti i tuoi mi uccido proprio c'hanno con me allora eh? quindi nemmo c'è di strategia non c'è la schile con la simpatico Allora, andiamoci ad un altro modo di strategia, quindi prendo il legno, faccio gli essi di querccia Eh bravo, controlla così se l'hanno lasciata a me Ok, ce ne sono, io infatti poi sto facendo una pala Così, visto che non ci possa andare sopra la terra, ci andremo di sotto Quindi andiamo Aspetta, c'è un intruso che aspetta che l'ho sciotto Pam, headshot, no Vai, l'ho preso di nuovo L'ho preso di nuovo Ok, è morto, è morto, l'ho ammazzato Pregatevi tutti Allora, eh, mi butto Mi sto attivo per suicidare, super fronco La, secondo me stanno vincendo il blu Quindi noi dobbiamo rimontare Ha rubato la bandiera del team rosso Vala, vai No, come? Ci hanno rubato la bandiera, dobbiamo prenderlo C'è un credito che non si toglie Mi hanno fatto se non l'ho scatto Aspetta, faccio saltare in aria Sì, non l'ho messo Aspetta Ma queste hanno fatto le cose I dispensi che lanciano le frecce Vai, vai, TNT, TNT TNT No, mi hanno ucciso, non è giusto Ok, in questo gioco sono un hub Ci ho messo trent'anni per raccogliere quegli smerati Ma è un'altra cosa Allora Cosa Crafting table Subito, subito Ci facciamo un coso Questa vattene via C'è uno che ti fa Fatta esplodere Fate esplodere, ma è che erino C'è uno che ti fa Oh, un altro anato Si ha detto un altro boss Un altro anato Ah Vabbè, io al frattempo Con la palla di legno Vado sottoterra e scavo Così nessuno mi vede Ma io non sopporto l'anno Per persone non sopporto l'anno Allora Allora Io vado sottoterra Vabbè, basta Io sono sottoterra Sto andando al castellone Mipo Aspetta Faccio un buchetto Dai, andiamo a prendere la bandiera Se già non l'ha preso qualcun altro Sì, questo turno non è servito a molto Forse è servito più ai nemici che a noi Vabbè Andiamo avanti Silenzio, silenzio Silenzio Buca Lambo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo perso No Sì, abbiamo perso Non è giusto Mi sa che per questo Si va alle lunghe Quindi direi Di concludere qua il video Se vi è piaciuto di lasciare un like Iscriversi al canale Se non siete ancora iscritti Per non perdere i prossimi video Un commento che non costa mai E non ci vediamo Prossimo video Ciao a tutti 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 Grazie.